Ciao amici e ciao amiche! Allora, vi avevo anticipato che ci sarebbe stato un secondo video dedicato ad acquisti e regali alcuni li ho fatti giù in Sicilia nel periodo delle festività però non li potevo portare con me in valigia perché viaggio con la Ryanair sono cose abbastanza voluminose per cui mi sono fatta spedire un pacco se i pacchi dal sud guarda ci salvano proprio la vita comunque mi è arrivato il pacco già da un bel po' di giorni e volevo farvi vedere che cosa ho comprato giù in Sicilia in più, visto che ci sono, vi faccio vedere i regali che ho ricevuto da marito, amiche per il mio compleanno che è stato il 13 gennaio e poi vi faccio vedere una cosa che ho comprato in saldo ho comprato una cosina sola da Zara perché onestamente di abbigliamento non ho bisogno di tanto però avevo bisogno di scarpe infatti giù in un negozio dove vado io di solito che ha delle scarpe io vi dico la verità non ho la fissa delle scarpe nel senso di qualità io non ho un piede problematico non mi sudano i piedi non ho necessità di avere scarpe da 200 euro non me ne frega niente sono sincera l'importante è che siano comode per me possono anche non essere di pelle anzi anzi la pelle è più brigosa da mantenere mentre a volte la finta pelle se fatta bene ha una manutenzione molto più semplice perché gli passi un panno e li diventano perfette quindi non ho l'ossessione delle scarpe buone a tutti i costi l'importante è per me che siano comode in più in questo negozio ho preso già negli anni precedenti delle scarpe che si sono rivelate essere durature buone, ottime ci sono delle scarpe che io avevo preso pochissimo che uso tutti i giorni da tre anni e adesso si comincia a scollare un pochettino la suola ma la posso tranquillamente anche aggiustare dal calzolaio per cui sono scarpe con cui mi sono trovata benissimo e ci sono tornata quest'anno tra l'altro avevano una promozione non c'erano ancora i saldi ma avevano la promozione che prendendo tre paie di scarpe uno il più economico lo si pagava un euro ho preso un paio di scarpe per mio marito insomma uno per mio figlio e io per me ho preso queste scarpe che adesso vi mostro mi abbasso un attimo perché le devo prendere qua allora un texanino ho preso questo è un classico texanino con un pochettino di tacco l'ho già indossato una volta devo dire che è comodo non è una scarpa per me da tutti i giorni la metto solo quando voglio un pelo più di altezza voglio essere un po' più fashion mi è piaciuto il colore non è pelle però è questo specie di camoscio molto ben simulato è rifinita bene le cuciture sono carine eccetera l'ho presa sulla cinquantina di euro quindi secondo me va benissimo se da due o tre anni la dovrò buttare amen chi se ne frega e poi ho preso invece un altro paio di scarpe queste sì le ho prese per comodità e per l'utilizzo quotidiano e giornaliero che sono del brand Skechers oddio sono bianche quindi non si vedranno mai e abbasso la luce perché purtroppo la telecamera sfalza in bianco sono tutte bianche quindi ragazze ecco forse da lontano si vedono meglio con questa banda dorata e sono delle semplicissime sneakers con la tecnologia air cooled le sneakers hanno la suola in memory foam è forse stato il primo brand che ha fatto la suola in memory foam e l'ha brevettata non so se conoscete il brand per me sono le scarpe più comode leggere e pratiche della storia mia personale che abbia mai provato sono delle scarpe facili da mantenere si puliscono addirittura quelle di stoffa le infile in lavatrice queste sono di similpelle quindi magari si potranno pulire con un panno ma sono la comodità proprio la comodità per eccellenza e io ormai quando compro delle sneakers le compro sempre Skechers per me non esiste altro è veramente un brand troppo comodo e queste sono le scarpe che ho comprato per quanto riguarda invece i saldi sono andata un giorno da Zara e ho preso una mantella non una mantella si chiama caban una cosa del genere cioè è un giacchetto un giaccone che non è molto pesante quindi non è per questo periodo è per l'autunno o finire dell'inverno corto quindi non a cappotto lungo corto con le maniche un pochettino a pipistrello lo faccio vedere è fatto così ed è di questo verde bosco che mi ha subito colpito è di mistolana niente anche qui di assolutamente imperdibile in termini di qualità però secondo me Zara il suo lo fa e lo sa fare bene poi si è fast fashion quello che vogliamo dipende però da cosa compriamo nel senso che se compri questi capi a me durano anni quindi tanto fast fashion non è e per quelle anzi le male lingue che mi diranno come hanno già fatto ah ma ti riempi di make up e poi ti vesti di stracci fast fashion si mi piacciono gli stracci di fast fashion e quindi è un vostro problema piccola parentesi evitate anche di scriverlo perché vi ho già risposto l'ho indossato così ve lo faccio vedere indossato vedete come è molto over molto over ma sapete che a me piacciono i capi over è corto perché mi arriva appena sotto il sederino e ha queste maniche a più di strello io indossando spesso dei cardigan o delle giacche sotto questo spazio qua lo voglio lo voglio perché altrimenti io mi sento ingessata mi sento costretta e i capi spalla troppo stretti e troppo aderenti non li sopporto per questo motivo io ho bisogno di spazio sotto quindi amo la vestibilità over vabbè lo sapete ve l'ho già detto oddio mi cade tutto ve l'ho già detto quindi non è una novità e per voi ho fatto pure la modella e passiamo ai regali di compleanno il regalo di mia madre lo teniamo alla fine come ciliegina sulla torta allora mio marito che di solito non è molto attento a queste cose però in questo caso mi ha stupito perché io avevo comprato indossato diverse volte un profumo di Barberis ve ne avevo anche parlato che avevo acquistato da Sephora nel formato da 10 ml da borsetta che è Barberi Goddess l'ultimo lancio di Barberis mi sembra uscito proprio nel 2023 mio marito questo profumo l'ha notato addosso a me gli è piaciuto e gli ho detto sai ho preso la taglia da borsetta però mi sa che prendo la taglia insomma il 50 ml perché questo profumo mi piace molto infatti è uno dei profumi che sto utilizzando di più beh mi ha preso il cofanetto mi ha preso il cofanetto con vi faccio vedere questo è il cofanetto con il profumo da 50 ml e la crema corpo da 100 ml 150 ml il profumo ragazza è questo Barberi Goddess la boccetta di un'eleganza strepitosa ma a parte la boccetta ragazze a me questo profumo piace perché è semplice ma nella sua semplicità lo trovo estremamente raffinato elegante e sensuale questo profumo cioè si compone di molte più note ma le note dichiarate e quelle che si percepiscono veramente sono fondamentalmente due vaniglia e lavanda ora la vaniglia sapete che si è associata a caramello zucchero filato un'ambra prepotente così a me non piace perché la trovo stucchevole ma associata alla lavanda fanno un connubio veramente inebriante perché si compensano a vicenda la vaniglia dà alla lavanda un po' di morbidezza di sensualità di dolcezza e la lavanda un po' rinfresca la vaniglia cioè non so se mi sono spiegata cioè la luce è troppo alta quindi fanno un connubio inebriante certo è un profumo dolce però non dolce stucchevole gourmand come altri che proprio non mi non mi convincono ecco sapete non rientrano alle mie corde quindi lo sto amando tantissimo per me è un profumo che potrebbe andare bene tutto l'anno però io lo sto usando in questo periodo perché poi nel periodo più caldo mi piacciono quelli più freschi che sono di pulito quelli più con delle note magari un po' più frizzanti e quindi me lo sto proprio godendo in questo momento poi un'altra mia amica che ovviamente le mie amiche mi regalano molto make up e profumi perché cioè non che io abbia ricevuto tutti questi regali facciamo facciamo questa premessa però quei pochi che ricevo sono a tema make up e profumi perché sanno le mie colleghe che questa è la mia più grande passione allora una mia amica mi ha regalato una busta con tre prodotti di Sigma e io però sono tre prodotti che tra l'altro non avevo ne avevamo parlato insomma che mi sarebbe piaciuto provare una palette di Sigma e lei ha scelto la più neutra quindi quella che poteva rientrare di più nei miei gusti e quindi mi ha preso questa che era una delle hazy a shadow palette nella tonalità hazy non lo so la colorazione forse è proprio hazy ed è questa palette se riesco ad aprirla ve la faccio vedere perché non l'ho ancora aperta con i toni piuttosto neutri mi piuttosto neutri queste palette di Sigma sono molto apprezzate dai makeup artist io non le ho mai provate comunque questa è la palette ha dei toni neutri questo è un po' più freddo questo è un po' più rosato e la proveremo io ho sentito parlare molto molto bene delle ma se facciamo qualche swatch via di queste palette di Sigma ok sembrano molto belli e sottili un po' più secchi di quelli che utilizzo io cioè non hanno una texture cremosa ma potrebbe essere un pro perché a me quelli cremosi sulle palpebre durano meno invece quelli secchini si aggrappano meglio insomma vedremo perché poi certe cose si devono provare sull'occhio c'è poco da fare e poi mi ha regalato anche scusate che mi pulisco se no sporco tutto quello che tocco insomma carini però rispetto a quello a cui sono abituata io direi niente di imperdibile comunque li proveremo poi mi ha regalato questa base per gli ombretti di Sigma la shadow base primer che è sostanzialmente un matitone che fa da primer io dubito che un matitone così possa far durare tanto il trucco è un po' illuminante un po' satinato vedete bello anche da solo comunque c'è un ombretto che fa anche da primer lo proveremo nel senso che Sigma è un brand professionale quindi magari ci stupirà però sapete che è un problema con i primer è difficile per me trovare dei primer che vanno a reggere sulla palpebra e questo è molto luminoso molto carino spero che questo almeno qualche ora me la faccia magari diventa uno di quei matitoni da utilizzare in velocità anche all'interno dell'occhio eccetera e poi pezzo forte questo pennello sempre di Sigma che è il contour and blush F53 Hair che è un pennello duo fibre questi sono fantastici per fare un effetto un'applicazione molto naturale delle polveri e delle creme e questa forma angolata lo rende ancora più come posso dire adatto alle prodotti per le guance non vedo l'ora di provarlo questo veramente perché i pennelli Sigma sono assolutamente sono assolutamente validi poi un'altra mia amica invece mi ha regalato e qui è stata attenta anche lei le mie amiche mi stuzzichano e mi dicono vabbè vediamo quale sarà il tuo prossimo acquisto make up visto che hai tutto cosa puoi mai desiderare di più e io ho detto guardate sapete che io in collezione non ho un blush rosa antico desidero un blush rosa antico probabilmente già carpivano delle informazioni beh la mia amica mi ha regalato questo blush di Diego dalla palma nella tonalità 21 che è proprio rosa antico e io veramente avevo in mente questa esatta tonalità il rosa antico è un colore secondo me trasversale che sta bene sia gli incarnati freddi che caldi ed è molto elegante molto 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 quindi sono molto curiosa di provarlo vedete è un rosa molto tranquillo e trasversale ma è una punta di rosa neutro perfettamente neutro direi che secondo me dona a tutte io questa punta di rosa non ce l'ho perché ce l'ho tutti con un twist più più caldo questo non ha assolutamente un sottotono caldo anzi direi poi applicato direi più freddo però vedremo insomma è un blush più freddo che non è il classico malva che mi ha un po' ho capito che non mi sta proprio benissimo quindi potrebbe essere un'alternativa quando faccio dei trucchi freddi al classico malva e questo è rosa antico di Diego dalla palma tra l'altro il blush di Diego sono favolosi questa mia amica li utilizza e dice che come fa il blush Diego dalla palma non li fa nessuno adesso continuiamo con un regalo che mi sono allora vi spiego alcune mie amiche mi hanno fatto un buono da spendere in una profumeria perché dicono non sappiamo cosa regalarti tu hai già tutto ti prendi quello che ti pare a te allora io sono andata in profumeria e ho scelto questo cofanetto che era già molto scontato in realtà mi sono fatta fare anche la confezione al regalo che apro insieme a voi quindi so cosa c'è all'interno l'ho preso se riesco ad aprirlo bella la confezione mi dispiace quasi aprirla la apro e torno questo cofanetto di dolce gabbana del profumo devotion premesso che forse non sarebbe proprio il mio genere di profumo anche questo sono andata a sentirlo un paio di volte in profumeria e non mi aveva convinto allora anzi faccio un'ulteriore premessa vabbè intanto vi faccio vedere il cofanetto che era scontatissimo già a gennaio perché questo è un cofanetto notalizio era già scontatissimo perché dopo il capodanno con i saldi mettono in sconto tutti questi cofanetti regalo che sono pensati proprio per il periodo natalizio e c'è il profumo in taglia da 50 ml e in taglia da borsetta da 10 ml non è stupendo? allora questo profumo c'è da dire che è dolce è gourmand perché sa però però ci sono mille però e ha avuto un successo strepitoso cioè proprio è il profumo più di moda del momento io per come sono fatta io non sono snob nel senso che non è che sia un profumo di moda no perché in realtà io non lo compro io non lo indosso perché ce l'hanno tutti non me ne frega se una cosa mi piace mi piace e basta la uso non me ne frega se ce l'hanno tutti lo può avere anche il cane della mia vicina non me ne frega niente se mi piace mi piace se non mi piace non mi piace ci sono profumi di nicchie che mi fanno orrore e ci sono profumi che hanno tutti tipo i Narciso Rodriguez lo sapete che mi piacciono e li indosso non sono una snob su queste cose né sul profumi né sul make up né sul cibo no io ragiono solo con il mio gusto mi piace o non mi piace quindi il fatto che ce l'abbiano tutti che sia molto in hype come si direbbe per il make up a me non fa la differenza però ero un po' frenata da queste note gourmand però andandola a sentire meglio quando sono andata a sentire la prima volta in profumeria devo dire che mi ha colpita perché era un profumo diverso sì gourmand sì dolce ma diverso in cui c'era questa nota inizialmente aggrumata che rinfrescava la composizione che poi però si evaporava e rimaneva questo profumo di candito di limone perché è quello il profumo è limone candito ok che quindi sì è dolce sì richiama il mondo della pasticceria però ha quella nota sferzante fresca e piacevole del limone che io amo cioè io amo le note comunque aggrumate amo il limone in qualsiasi salsa e quindi mi era comunque piaciuto poi mi era rimasto addosso un sacco di tempo cioè proprio ben formulato ben equilibrato cioè si vede che c'è uno studio dietro di voler fare qualcosa sì che richiami comunque il filone che ha più successo al momento cioè il gourmand però con quel quid di originalità non è il solito profumo gourmand che si sente dappertutto ok è un gourmand originale un gourmand più fresco tanto che alcuni lo come posso dire lo identificano come profumo più estivo e non capiscono perché sia stato lanciato in inverno per me rimane un profumo invernale ma quello rimane proprio da cioè dipende dalle nostre abitudini cioè per me già quest'inestate sarebbe un po' troppo anche perché è molto persistente quella nota ti rimane addosso io avevo fatto uno spruzzino piccolo tanto quindi è ben formulato ben bilanciato ben equilibrato in tutte le varie note olfattive ed è molto persistente ragion per cui ci pensavo ci ripensavo così poi ho detto no ma è cioè la boccetta ne vogliamo parlare guardate che cos'è la boccetta è una roba da andare fuori di testa a parte che pesa un quintale ma tutto questo richiamo alla boh ad elementi sacrali votivi di devozione non lo so io ci ritrovo vabbè in tutta l'estetica di dolce gabbana ci ritrovo un richiamo alla sicilia ovviamente ma loro non ne fanno neanche mistero però sta boccetta così semplice perché è un quadrato di vetro semplice con questa applicazione che si vede che è di qualità per me andava presa anche solo solo da collezione ma risentendo il profumo mi sono innamorata anche del profumo quello è il bello cioè ti ho detto no questo profumo è per chi ama i profumi come me la ricerca che ci sta dietro ai profumi è un profumo che secondo me non si può non avere non è stucchevole ragazze è un dolce sferzato all'inizio c'è una nota quasi di proprio agrumata più fresca poi questa nota va via come vi ho detto e rimane la nota di limone candito però è un dolce che comunque è piacevole perché il limone è fresco come nota è un limone che però viene molto ammorbidito arrotondato da questa nota gourmand da questa nota più dolce è un limone cremoso proprio un limone candito e cremoso quindi un po' crema pasticcera al limone però in questo caso prevale la nota di limone più che di crema non so se mi sono spiegata in linea di massima lo trovo molto affascinante sia nel packaging sia nella comunicazione nell'estetica della boccettina ma anche nelle note che comunque mi richiamano la frutta candita che tanto va in Sicilia dalle mie parti quindi per un valore affettivo e poi da utilizzare ogni tanto non dico che è un profumo che utilizzare tutti i giorni questo no però da utilizzare ogni tanto ci poteva stare quindi il buono l'ho speso ho integrato 20 euro e ho preso questo cofanetto e sono super felice di averlo preso e di averlo nella mia collezione diciamo che questi due profumi sono stati sono state le due uscite più chiacchierate del 2023 e io adesso le possiedo entrambe e ci sta per una appassionatissima di profumi che non disdegna la profumeria commerciale la profumeria di nicchia eccetera ci poteva stare sono contentissima di averli entrambi e li amo entrambi per ragioni diverse ah a proposito del devotion vi volevo dire che può essere la versione più costosa più complessa più persistente di un profumo che in realtà ha in catalogo l'erbolario che è cedro a me un po' vagamente mi ricorda quel mood lì cioè il cedro dell'erbolario è un profumo che inizialmente è agrumato e poi vi rimane sul fondo questa nota di vaniglia perché questo connubio tra l'agrume e la vaniglia lo avvicino un po' a questo quindi se siete interessati a esplorare questa dicotomia tra l'agrumato quindi tra l'aspro e il dolce andate ad annusare cedro di calabria mi pare che si chiami sì cedro di calabria dell'erbolario perché potrebbe essere un dupe economico cioè comunque una versione che è uscito prima di questo di dolce gabbana quindi semmai è il contrario loro si sono ispirati a quello dell'erbolario ma non credo però come concept un po' lo richiama adesso ragazzi arriviamo al regalo che mi ha fatto mia mamma allora il giorno in cui siamo partiti col pullman per andare verso Siracusa ci siamo fermati per fare una sosta in un outlet che c'è in Sicilia nella zona tipo dell'entroterra in un village outlet e siamo praticamente abbiamo fatto questa sosta lì siamo passati davanti al negozio di furla ora dovete sapere che mia madre è una grande appassionata di borse e anche una grande appassionata di borse furla furla è un brand italiano che fa borse di medio alta qualità cioè non parliamo di prezzi inaccessibili però non parliamo nemmeno della borsa di 50 euro ok diciamo che siamo in un range non so la più scarsa costa dai 150 proprio una clutch piccola ai 5-600 euro ma 5-600 euro già siamo forse i modelli più costosi però diciamo mediamente le borse di furla vanno dai 200 ai 400 euro più o meno siamo così comunque in questo outlet siamo entrati c'era il negozio furla io avevo già in mente da tempo di comprare un portafogli perché il mio ormai si è si è tutto bagnato si è gonfiato si è rovinato e poi è troppo grosso e ingombrante volevo prendere già da un po' di mesi un portafogli più comodo e io sono entrata da furla per vedere se ce ne fosse uno che facesse al caso mio e in effetti l'ho trovato mia madre che era dietro di me mi ha seguita e niente poi abbiamo cominciato a guardare insieme le borse lei si è presa una borsa rossa e io ho scelto una borsa che ovviamente poi mi ha regalato lei cioè mi ha regalato anche poi il portafogli quindi praticamente lei mi ha detto vabbè dai allora ragazzi voi dovete considerare che io vedo i miei genitori due volte l'anno e quelle due volte l'anno loro un po' mi vogliono viziare perché è come se volessero in un certo senso compensare tutto quello che non mi possono dare tra virgolette anche di materiale durante tutto l'anno ok per il fatto che siamo lontani e ci sta perché se io fosse una mamma lo farei anche io con mia figlia quindi considerando appunto che c'era il Natale che era appena trascorso poi il 13 gennaio ci sarebbe stato il mio compleanno ma anche se non ci fosse stato né il Natale né il compleanno comunque mia madre quando si sente di farmi un regalo me lo fa volentieri beh mi ha regalato sia questo portafogli che è esattamente come lo volevo io nel senso che ha una parte forse non avrei scelto il colore grigio però lo trovo comunque molto raffinato è un grigio tortora raffinato in questa pelle sabbiano che non fa nessun odore c'ha una parte dove ci posso mettere le carte è una parte per le banconote e dall'altra parte invece ha la zip così per le monetine io lo volevo esattamente così perché comunque è piccolo compatto vedete ha la forma la grandezza di una mano è effettivamente la metà di quello che utilizzo io al momento quindi ha la possibilità di avere una parte più per le dita alle monete e con la zip una parte così mi ha assolutamente convinto tra l'altro è piccolino però ha tanti scomparti è comodo ed è lo trovo molto raffinato la pelle sabbiano mi richiama proprio molta eleganza ecco poi ho adocchiato questa borsa ecco che faceva pandan con il portafoglio ed è la dimensione giusta che piace a me perché io amo le borse non posso portare le borse troppo piccole perché nelle borse ci metto la qualsiasi ci metto il portafoglio ci metto la pochette con i trucchi ci metto a volte un libro per quando sono insomma per ammazzare il tempo nelle attese ci metto ho due cellulari uno di lavoro uno personale ci metto l'agendina con la penna per prendere appunti a volte la bottiglietta d'acqua insomma io la riempio come niente una borsa così quindi io le borse piccole non le posso portare e soprattutto io amo le borse che hanno una sola tasca capiente non tanti scomparti perché io non trovo niente e mi metto a imprecare mi perdo le cose nelle tasche quindi preferisco un'unica tasca grande dove io posso ravanare ecco sto svuotando dove posso ravanare aprire e trovare subito quello che mi serve quindi è monotasca a parte appunto la tasca interna che comunque c'è qua c'è una tasca interna non c'è una tasca con ah qua c'è un'altra tasca ecco adesso la studio bene con voi non me la ricordavo un'altra tasca dove magari mettere i documenti o le cose più più importanti le chiavi e quant'altro e insomma quindi invece di esserci la tasca con la cerniera qua l'hanno fatta a parte qua e poi ovviamente c'è la tracollina più scura ed è di pelle non è pelle sabbiano questo è pelle martellata quindi più morbida e mi è sembrata super super raffinata tra l'altro è lo stesso neanche farlo apposto lo stesso identico colore del del portafoglio ah e la cosa che mi è piaciuta è anche questa che è composta da tre colori il manico che è di un direi marrone più scuro questo che è un tortora e poi i lati che sono color avorio color avorio beige caldo e insomma io sono convinta di poterla utilizzare poi ci sono queste applicazioni dorate sono convinta di poterla godere utilizzare parecchio fatemi sapere cosa ne pensate a me piace moltissimo ma non è finita qui perché dovete sapere che mia madre è appassionata di borsa questo ve l'ho già detto e non usa più al contrario di me le borse grandi perché lei al contrario di me ormai non diciamo non ha esigenza di portarsi dietro una borsa pesante che la pesantisca che la ingombri e quindi tutte le borse che prima utilizzava perché prima aveva necessità appunto di borse più grandi che ha nell'armadio non le utilizza più e adesso sta comprando solo delle borse piccole dove mette perché lei mette solo il portafogli le chiavi e il telefono e un pacchetto di fazzoletti in stop quindi ha bisogno cioè ti trova più comoda con le tracolline quelle piccole e quindi ha comprato ultimamente i suoi acquisti sono orientati su quel tipo di borsa tutte le borse grandi perché negli anni lei ha comprato borse buone e le tiene nell'armadio non sa più che farsene e mi ha detto di volersene disfare e io ovviamente cioè ho non lo so le orecchie mi hanno fatto le antenne ma fammi vedere queste borse che magari se ce n'è qualcuna che mi piace me la prendo io e beh me ne sono preso un paio che secondo me sono un po' vintage però secondo me valgono un po' la pena volevo anche un vostro parere le prendo e torno da voi prima borsa classico bauletto di pollini non so se lo conoscete pollini è un brand che nei primi anni 2000 fin anni 90 primi anni 2000 ha avuto un boom pazzesco aveva anche costi importanti adesso esiste ancora ma ha avuto un restyling e un abbassamento di prezzi ma quei pollini lì che aveva le scarpe le borse appunto con il logo con questa P per quelli della mia generazione sono rimaste un classico mia madre questa borsa non la usa più da 10 anni allora ha detto mamma guarda che se me la regali io la userei tutti i giorni per andare a lavorare perché ha la capienza che piace a me è a forma di bauletto vedete c'è anche la tracollina ha la conformazione che mi piace c'è un unico scomparto dove ci sta di tutto e di più ha la tracolla tra l'altro comoda con la scritta pollini ma di stoffa bella larga perché riempita questa diventa pesante e insomma e mia madre me l'ha regalata volentieri perché ha detto che davvero non vedeva l'ora di disfarsene perché le occupava solo del gran posto e me la sono beccata io a me piace ragazze io non ero una fan di pollini a livelli sfegatati però ora col fatto che è una borsa vintage cioè proviene proprio da quegli anni lui in cui pollini spopolava e adesso non le fa più queste borse di questa qualità di questo costo cioè mi attria il fatto che sia una borsa vintage e poi c'è ovviamente l'aspetto affettivo del fatto che appartenesse a mia mamma voi che ne dite? ho fatto bene a prendermela io? io direi proprio di sì anche perché sono colori neutri che stanno bene con tutto lo puoi mettere con il cappotto cammello insomma col cappotto nero e poi è ancora in ottime ottime condizioni perché all'epoca le facevano veramente bene le borse ora non si sa più altra borsa ecco su questa sono un po' indecisa però ho detto nel frattempo io me la prendo me la faccio spedire però non è proprio il my cup optivi dico la verità però è sicuramente molto comoda allora io non ho borse nere faccio questa premessa perché le borse nere non tanto mi piacciono mi piacciono i colori più neutri più chiari però mia madre aveva ecco una c'era un periodo in cui aveva una passione per le borse The Bridge anche qui The Bridge è un brand che andava tanto nei primi anni 2000 lavoravano ma c'è ancora lavorano il cuoio la pelle di buona qualità nasce come pelletteria diciamo di alto livello una borsa The Bridge tipo da lavoro può costare anche 5-600 euro comunque mia madre ha diverse borse The Bridge quelle piccole le usa ancora ma questa grande non la usa più se fosse stata marrone o cuoio io l'avrei usata senza problemi ma il discorso è che è nera e ve la faccio vedere non è brutta per carità questa si vede un po' più usata però a me le scarpe le borse usate non dispiacciono perché mi sanno di vissuto cioè a me piacciono le cose vissute anche che mostrano segni di usura dovuti all'utilizzo anzi proprio il bello degli oggetti vintage è proprio questo quindi questa è una borsa The Bridge vintage ed è nera con la pelle tipo sempre qui saffiano però molto morbida è molto capiente praticamente è una valigia ci sta di tutto ragazze ma per me questo è un plus perché io davvero ci metto la qualunque nella borsa oddio non si apre più ecco unica tasca dove ci sta il mondo infinite oltre tasche all'interno una per mettere i fazzolettini una con la zip e anche una qua davanti dove mettere magari con il bottone dove mettere i telefonini e questi manici questa è una borsa a spalla non ha la tracolla e non c'è neanche l'aggancio per la tracolla quindi si indossa così allora secondo voi datemi qualche consiglio io intanto la prendo la utilizzo e vediamo come mi trovo perché effettivamente è che l'unico problema mio è che non mi piacciono le borse nere però il mio limite nel senso che io non ho delle borse nere quindi ho detto vabbè me la prendo così ho anche l'alternativa nera e niente e poi ribadisco c'è sempre il valore affettivo che è inestimabile ragazze io vi ho detto tutto mi sono divertita tantissimo a registrare questo video adesso lascio la parola a voi fatemi sapere cosa pensate di regali acquisti e diciamo eredità di mia madre di queste due borse quale vi piace di più se vi piace anche quella nuova che ho comprato a me piace da morire quindi veramente la trovo deliziosa e molto raffinata e niente ragazze scatenate l'inferno nei commenti io vi abbraccio e vi do appuntamento alla prossima ciao ciao